questa che è stupida volevo vedere che passava e porca miseria non sapessi scegliere la tua o quella del Vito capito Vito non sapessi scegliere uno o l'altro ti ho detto guarda puoi scegliere una delle due intanto prendi lo stesso intanto lo ammazza lo stesso questo è stato attentato una volta ha detto che l'ha fatto apposta a cadere ma lì cade sempre qualcuno suo perché proprio cade ma io lì ho lasciato sotto la gamba sotto la tua ma con la gamba sotto però anche io faccio così anche io faccio così e basta la moto è stato bellissimo poi mi ha detto che l'ha fatto passare quella che è difficile vei buschi scull vai a fare questa zona vai vai a te lo vuoi si ma dove vai lì dietro vai lì dietro gargamella vai lì dietro al culo così si imbizzarisce vai corri di dietro dai dai veloce però su dritto su dritto via vai se non facessi saltello la fai perché hai fatto il saltello perché sono qui porco diavolo l'avevi già fatta l'avevi già fatta la motta elettrica che non è vero perché ce l'ha anche lei adesso adesso ce l'hanno anche quella via vai a cagare vai a cagare vai come lui vai su un pezzetto poi sposti la tiri dentro via così zero zero spatti bravo la moto elettrica per non tirare la frizione tanto non la tirano stessa prima e poi ce l'hanno anche quelle elettriche ormai allora lui l'ha fatta l'ha fatta a zero sì ma sei arrivato qua è stato in merda eh vabbè allora aspetti troppo impostare quando arrivi lì che la vedi giusta vai via prova prova non aspettare se aspetti troppo o di qui o di là sbagli vai quando sembri giusta anche perché poi ti tiri troppo sotto dopo non ce la fai più uno l'altro spenta ecco via da qua quando sei a metà vai via 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 frizione tirata si spegne adesso devo fare alza il minimo figlia alza il minimo guarda lui dove parte se la fa giusta quando l'ha in posti quando arrivi a metà deve andare però l'ha tirata fuori anche se ha sbagliato l'ha tirata fuori bravo aspetta salta 5 c'era lì lui e ha detto via hai visto come si gira? sei stato bravo perché era tutto storto eppure l'ha ripresa dentro meno male che c'era il tronco meno male che c'era il ceppo perché se no bastava giù nel fiume basta vai a prendere il vino vai a prendere il vino vai a prendere il vino no lui fragolino l'ha portato ieri sera a venerdì sera a motoclub quindi gargamello facciamo bere un bel biccerotto dopo andiamo di là sui sacchi grazie a tutti